Mercoledì 14 aprile in Puglia sono stati registrati 13.647 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.488 casi positivi, 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 39 decessi di cui 4 in provincia di Foggia, 51.789 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.